dalle nuove dichiarazioni di veronica panarello sulla morte del figlio loris all'iscrizione nel registro degli indagati del nonno paterno andrea stival il passo è breve l'uomo 53 anni risulta indagato per concorso in omicidio e occultamento di cadavere ad ucciderlo è stato mio suocero perchè eravamo amanti e questo è il racconto di mamma veronica ad una psicologa del carcere catanese di piazza lanza il colloquio risale al mese di gennaio e l'informativa adesso è entrata nelle carte del processo ma le dichiarazioni sono finite subito in tv a quarto grado creando il solito putiferio mediatico non è vero sono solo bugie e fango io sono come l'acqua cheta dice il nonno andrea stival in un'intervista rilasciata oggi al quotidiano la sicilia il mio assistito afferma invece il suo avvocato difensore francesco biazzo dal dicembre scorso non è stato più sentito dagli inquirenti e non ci risulta sia attualmente indagato la panarello verrà nuovamente interrogata dagli inquirenti così come auspica il suo legale franco virlardita intanto il padre del piccolo loris davide stival attraverso l'avvocato daniele scrofani fa sapere di attendere gli eventi l'attraverso l'alli